Parte l'operazione restyling della cittadella dello sport a San Buceto nel comune di San Giovanni Tiatino. Il progetto da 995 mila euro è finanziato dal Fondo Sport e Periferie 2023 per 700 mila euro e per la restante somma con fondi comunali. Ad illustrarlo il sindaco Giorgio Di Clemente e l'assessore allo sport Paolo Cacciagrano. Con questa bellissima opera che si andrà a realizzare saremo veramente, dico, tra i primi oggi in Abruzzo, per non dire in Italia, come cittadella, come capienza, come attività sportive, come accoglienza. E siamo orgogliosi di ospitare chiunque abbia voglia di venire qui a giocare e a comportarsi nel migliore dei modi. Il progetto ha diversi obiettivi. Innanzitutto riqualificare e rimodernare il campo di calcio 1 con una nuova tribuna per 375 spettatori di casa più 4 disabili. Sarà realizzato in prefabbricato in cemento armato e copertura in legno lamellare. Sarà rialzata di 3 metri per favorire la visione del gioco degli spettatori mentre sotto ci saranno uffici, spogliatoi, bagni, lavanderia e magazzini. 145 potranno sedere nella nuova tribuna ospiti in struttura modulare prefabbricata in acciaio e due nuovi bagni. Il progetto prevede anche l'adeguamento dell'impianto termico ed energetico. Non solo calcio. Nell'area disponibile di 2.700 metri quadri della cittadella è prevista la realizzazione di un campo polivalente di basket e calcetto ed uno da beach volley, tutti adeguati all'equivalente sport parolimpico. Tempi di realizzazione totali sono 23 mesi, quelli di intervento tecnico sono 12 mesi. Cercheremo in ogni caso di alleviare il maggior modo possibile e di non interrompere le partite di calcio, anche perché, ripeto, a fianco abbiamo un altro campo di calcio, il campo di calcio numero 2, dove è possibile effettuare partite. Quindi cercheremo, giostreremo tra i due cambi per permettere il non blocco delle partite di campionato.